I numeri dei contagi in Lombardia continuano ad aumentare, il più preoccupante è il dato dei ricoveri. Nelle ultime 24 ore sono 1.409 nuovi positivi a fronte di 149.006 tamponi effettuati con un tasso di positività allo 0,9%. Secondo i dati del Ministero della Salute, 5 le vittime aumentano i ricoverati in terapia intensiva che raggiungono quota 51, mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 524.